Oggi in radio il dottore Amnon Cohen, direttore del reparto di odontologia del San Paolo di Savona. Siamo nel bel mezzo della settimana dell'infanzia, tanti appuntamenti ci sono già stati, altri verranno. Che succederà da qui a domenica? Beh, la settima edizione della settimana dell'infanzia, dedicata tutta al mondo dei bambini, al mondo dell'infanzia. Oggi continuiamo tra poco, alle 3 praticamente, ci sarà nel Piazza Assisto una presenza del Veloce Calcio con tutto già tappezzato, tutta la piazza tappezzata, per giocare a calcio. Quindi i bambini che ne hanno voglia, con i genitori, possono venire, usufruire di questa occasione, giocare a calcio in piazza con gli allenatori e quindi grande festa in piazza per tutti quanti. Poi domani sera avremo un concerto polifonico per il progetto Renzino Astengo. Questo verrà fatto nell'oratorio di Nostra Signora di Castello che è vicino a Piazza Assisto, è in via Manzoni, quindi sempre a Savona. Dopodomani, quindi sabato alle 14, ci sarà di nuovo un gioco e animazione con il Centro Maya che di nuovo cercherà di allegrare un po' tutti quanti, bambini, famiglie, genitori e stare un po' con i bambini vicino a loro. Invece un appuntamento importantissimo è quello di Cresci in Bike, la 14esima edizione. Domenica mi raccomando tutti in Piazza Assisto con le biciclette, anche quelle scassate, anche quelle normali, eccetera, a venire in Piazza Assisto perché alle 9 cominciamo l'iscrizione e la partenza della pedalata non competitiva per le strade di Savona, tutti con rumore baccano, eccetera, perché dobbiamo fare festa, dobbiamo fare festa. Quindi ci vediamo poi anche di domenica.